Oggi è lunedì, ho appena appena registrato un video che vedrete nei prossimi giorni Vi faccio solo vedere la postazione Adesso vedrete qua tutto sparaflasciato perché c'è il faretto acceso È un video tech, quindi a tema col canale, alla fine che il canale videogioca è tech più o meno Ok, quindi adesso ritiro tutto perché ho fatto un macello per fare questo video, ho tirato fuori un botto di roba Mi metto a scaricare le clip di quel video lì Butto giù il progetto per il weekly di questa settimana, che anche se questa è la prima clip E mentre già che ho la postazione acceso, registro un pezzo per il weekly in cui vi voglio parlare di Venom Quindi io vi dico soltanto che faccio una bella cosa Io vi dico soltanto che siamo un inception E quindi subito a parlare di Venom ragazzi Ok, ho appena finito di parlare di Venom Che devo ancora vedere se finirà nel weekly in un video a parte Perché ormai che ci ho parlato, comunque per quanto ho detto che non voglio che venga in un video a parte Per buttarmi dieci minuti di clip in cui parlavo seriamente senza neanche impappinarmi troppo Boh, adesso ho sete perché ho parlato veramente tanto, ma tanto, ma tanto E poi vedo cosa fare perché alle quattro e mezza devo andare a portare il cane di mia cugina a spasso come in molti altri video E poi devo iniziare a montare i weekly, montare l'altro video che ho registrato E boh, perché domani ho il corso di fotografia anche Quindi boh, vedrò perché mi devo anche studiare per il corso di fotografia Raga, voglio morire veramente Ho registrato le clip, le stavo scaricando sul Mac per iniziare a editare tutto un po' Visto entrambi i video Non ho acceso il microfono Quanto posso essere stupido? Quanto? Ma veramente, quanto? Mi voglio malissimo raga Adesso li registrerò perché comunque erano due, beh, uno era un bel spezzone clip L'altro era un bel video comunque, era venuto abbastanza bene Eh, per quanto ci fosse il mio faccione in mezzo Però, veramente raga, che odio Mi odio tantissimo Adesso devo risistemare tutto e fare il video E rimettere tutto nello zaino E ritogliarlo tutto Non uccidetemi adesso, vi prego Sono andando a portare a spasso il cane Cioè, sto andando a prenderlo per poi portare lo spasso Poi riregisterò i video Adesso ho rimontato tutto il set Cioè, tutta la attrezzatura, i faretti, tutto E registrerò Allora, un tempo a 20 minuti, vado a registrare Quindi oggi che stanno a te, dovrei dire di più Yeah Sono contentissimo, guardate Proprio la mia felicità Soprattutto perché Stavo già per iniziare Batteria scarica della macchina Cambio batteria subito Anche l'altra scarica Mi ho messo un'altra Andava Allora, approfitto che c'è ancora un po' di luce Per andare a fare un volo col drone Perché devo provarlo Perché ha qualche problemino Se viene qualche ripresa decente Adesso sono buonissimo Vi metto il video E luce Niente, purtroppo ho provato a fare 5 minuti di volo Ma non è andata Mi sa che lo manderò a DJI a sistemare Perché ha il gimbal che è qualcosa che non va Il volo è stabile Il segnale c'è Vola, viaggia, va veloce Tutto a posto quello Le eliche sono a posto I motori sì E il gimbal Ha qualcosa che non va Non si muove più E se si muove si muove In una direzione sbagliata Allora ragazzi Allora, questo Finirà nel weekly Allora, volevo parlare di Venom Che sono andato a vederlo ieri Sera Quindi era domenica Non ho vloggato Però Volevo parlarne lo stesso Perché è un film che mi è piaciuto Mi è piaciuto abbastanza Non potrei dire che è il mio film preferito Ma comunque mi è piaciuto come film in sé Visto dagli occhi di uno che guarda i film d'azione Punto Perché se lo guardate da uno che segue i fumetti Che gli piace il mondo Marvel in generale Roba del genere Non credo possa piacere Perché personaggio sì Nomi sì Ma luogo, circostanza e tutto il resto No Cioè Eddie Brock Eddie Brock c'è veramente Nella saga di Spider-Man Comunque Parlando di Venom Però non è il primo che viene contagiato da Venom Ma neanche l'ultimo Soprattutto non così Cioè Spoiler alert Mi raccomando Per chi non l'ha visto Saltate Direttamente A più avanti Comunque Fatto sta che Eddie Brock Contagiato da Venom Ho preso da Venom Dite come volete Dentro il laboratorio Life Life Qualcosa Comunque È stato preso lì così? No Però non è così Non sono sicuro che sia Neanche come in Spider-Man 3 Non sono sicuro che sia Contagiato così Però comunque Venom Venom poi Parliamo di Venom Allora Venom Non arriva sulla Terra Tramite gli uomini Ma arriva sulla Terra A casissimo Non mi ricordo bene come Se Tramite un meteorite Come fa in Spider-Man 3 O Perché mi sono perso L'inizissimo So che però Come primo Essere Barra persona Con cui si è fuso Sul pianeta Almeno non so se proprio Il primo primo Comunque Uno importante Nella sua storia È stato Deadpool Venom Era un Bravo Era un bravo ragazzo Diciamo Quando È arrivato sulla Terra Poi Logicamente per vivere Bisogna un ospite Cosa fa? Ha scelto probabilmente La persona Meno indicata O una delle meno indicate Sul pianeta Ovvero Deadpool Il cui all'inizio Si trovava bene Poi pian piano Deadpool L'ha fatto impazzire E non poco Perché Lo sappiamo tutti Com'è Deadpool Quel maglietto Di Deadpool È veramente Una cosa allucinante Quindi È fuori di testa Come cosa E lo manda fuori di testa Venom Attenzione ragazzi Lo manda completamente Fuori di testa Poi D'altra parte Di Venom Diciamo Il sospetto In sé Quando non è Quella palletta Di simbionte Così Non ha un ospite L'ha presa Da Spider-Man In questo caso Arriva sulla Terra Si manda con Andy Brock E ha l'aspetto di Spider-Man A casissimo Però Trasciando anche questo Non vi parlerò di cose Proprio Statistiche Tipo Eh no Potevano fare Queste inquadrature Così O così Color In sé In sé Come film Mi è piaciuto Ve lo parlo Come persona Non come recensitore Perché non sono un recensitore Non come critico O roba del genere Se ci sono film belli Che mi sono piaciuti Ve ne parlo Se ci sono film brutti Non ve ne parlo Non sto lì a parlarne male Perché tanto Magari Mi dico anche porcate Tu non la vedi Perché non Lui non parla Lui non fa Chissà quali azioni Fa fare azioni Ma Invece qua Se non è trasformato Quindi se non è Trasformato in Venom Nella sua forma Ma è così Ma è dentro L'ospite Solo l'ospite Lo sente nella sua mente Se invece è trasformato Può parlare a tutti E questo ci sta E hanno fatto un bel carattere Un po' pazzo Un po' sadico Un po' cattivello Ci sta Perché comunque Magari preso dal punto Da chi sa Che è stato con Deadpool Capisce che è un pochettino Già fuori di testa Soprattutto che è la sua Passione più grande Possiamo dire Mangiare le teste Ragazzi A lui piace mangiare le teste E ci sta un botto Quello è molto figo Triggerante Ma figo Io ho però molto visto Che staccavano la testa E pensavo fosse Dobbo a difendere Spero io ho detto Adesso gli mangiamo la testa Ah L'ho capito Tanta roba Quello mi è piaciuto Devo dire che come carattere Mi è piaciuto Anche il fatto che litigavano Entrò la mente Con Eddie Brock Discutevano Parlavano Si mettevano d'accordo Tanta tanta roba Non mi è dispiaciuto per niente E basta Cioè Me lo parlavi comunque Alla veloce così Bello come film Ve lo consiglio Ecco L'ultima cosa Che voglio parlare Gli altri simbionti Perché se Chi ha visto il film Vede che Non arriva solo Venom Sul pianeta Anche se è stato trasportato Degli umani Non arriva solo lui Ma arrivano altri simbionti Arrivano altri simbionti Arrivano altri simbionti Che dovrebbero essere Adesso non so i nomi Però ce n'era uno giallo Uno Azzurro E uno Ciano Tipo cosa del genere Che chi sa il fumetto Questo mi ha detto Che ha letto il fumetto Veramente Un mico Strainfognato Ha detto Eh no Guarda che Questi qua Sono Cioè me l'ha detto Prima del film Me l'ha detto Un po' di tempo fa Comunque Quando si parlava All'inizio del film Che nei primi trailer Si vedeva Mi ha detto Eh guarda che In verità Sarebbero clonati Dall'umano Dall'uomini Tramite il DNA di Venom Quindi anche quella Non è proprio Preciso preciso Vabbè che tanto muoiono Nell'arco del film Tranne quello tipo Ciano O grigio E Venom Gli altri muoiono Nel giro del film Poi Il cattivo Vabbè Il cattivo Ci sta Un bel carattere Non ho capito bene Staccato Dei simbionti Subito Poi ho capito subito Che volevano Venire a conquistare Cioè Lui voleva Il cattivo simbionte Voleva far conquistare Il mondo Venom all'inizio Ero d'accordo Poi dopo che Si è fuso con Eddie Ho fatto tanto amicizia Allora non decidi Non farlo più E ci stava Mi è piaciuto come cosa Poi Ultima cosa Come ogni film Marvel Comunque di Super Mario Marvel In generale Anche se non è fatto Direttore dell'oro Perché comunque Chi non lo sapesse Venom Non è fatto dalla Marvel Direttamente È fatto con collaborazione Con Marvel Ma l'ha fatto la Sony Con la Columbia Comunque Logicamente Dopo i primi titoli di coda Con le scenette Tutte animate La musica figa Tra l'altro Che ha fatto Eminem E il nome degli attori C'è sempre la scenetta Di quei mezzo minuto Un minuto E c'è la Eddie Brock Cioè un po' di tempo dopo Che è successo Tutto quello che è successo Che va in una prigione A intervistare Un assassino Pazzo maniaco Quanto aveva visto Che era dietro 40 sbarre In fila Con Il giubbotto di forza Lì La maglia di forza Quella cosa lì Che lo diblocca Tutto un po' Lo hanno Lo intervistava Parlando di un assassino Tutto un po' Lì non hanno parlato Recentemente Ma comunque Mi è venuto in mente Carnage Perché Carnage È tipo il figlio Barra clone Barra Barra Tu quello che volete Di Venom Che Ovviamente Si è creato Da una particella Di Venom Con Insieme Il DNA di Peter Parker Ovvero Spider-Man E quello di questo assassino qua E quindi è venuto Carnage Vi dico Dando in paragone Carnage È un Mostro malefico Tantissimo E Venom In confronto È Fatto cattiveria A un cucciolotto Affettuoso Che ti fa le feste Quando ti vede Anche se non ti conosce Cioè per dire Adesso vi lascerò poi qua Una Una foto di Carnage Se me la ricordo Spero proprio di ricordarmi Perché Voglio far vedere Però Ci sta Perché comunque si assomiglia a Venom È rosso Ecco è rosso Voglio dire Magari voi l'avete visto Prendo un Venom rosso È fine Quindi questo Spezzone qua Finisce qui Io vi lascio All weekly di nuovo Bella Oggi è mercoledì Ieri non sono riuscito per niente A vloggare Perché Ho avuto una giornata Da quando mi sono svegliato Quando sono andato a dormire Non incasinata Di più Quindi Non Non sono riuscito A vloggare Mi dispiace Però Boh Oggi Non credo Farò grandi cose Perché adesso Sono a casa di Mia cugina Che gli sto Aspettando il corriere Che lei doveva andare a lavorare Poi faccio un salto A mia nonna Che credo andrò a casa Quindi poca roba Probabilmente ci vedremo direttamente domani Se tutto va bene Che domani Ho anche Il seminario su Doceti Domani sera Speriamo in bene Ok sto uscendo Sto uscendo Sto andando a fare un piacere Per mia nonna Sono andato a prendergli La bici dal meccanico Vado a portare il cane A fare due passi E torno a casa E finirà veramente Questa giornata In questo momento Oggi è giovedì Allora Adesso sono le Due e mezza Volevo farmi una partita A Spiderman Come si sente Di sottofondo Poi Mi sto volando qualcosa Di serie tv Oggi Me la prendo proprio Per stare scialla Scialla Perché poi Ho il corso Ho il seminario di Final Cut Su Doceti E poi su Stanco In questi giorni Ho una stanchezza addosso Che non riesco proprio Capire come mai Quindi Me la prendo proprio Da stare tranquillo In casa oggi Allora Oggi è venerdì E tipo Evviva Cioè Raga Evviva Evviva Porco Schifo Evviva Ho preso Redhead Tra l'altro Raga La parte dei notifichi Che arrivano Due dischi Raga Due dischi E' allucinante E' spaziale Strapesante Ciocone Raga E poi Black Geek Che ha preso Tutti gli iPhone Congratulazioni Su quello Perché ho visto Che ha incontrato Tim Cook All'Apple Store Di Milano Quindi Tante tante robe Che ha incontrato 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 Grazie a tutti.